Che partita è stata quella di Cesena? Poteva anche finire in altro modo? Ma sì, sicuramente è quello che ci auspicavamo, tuttavia poi ci sono degli eventi, degli episodi che indirizzano la partita. Comunque fino a un certo punto siamo state sull'1-0 e basta un'occasione per ottenere un pareggio e poi magari motivarci per una vittoria. Però è una partita che vale tre punti e gli eventi possono influenzare ed è stato questo il caso. Domenica il Bologna allo stadio e il Bologna è una squadra che si è molto rinforzata dalla Serie C con tre attaccanti anche pericolosi. Diciamo che in generale tutto il livello della Serie B si è alzato, noi siamo sempre contenti di giocare allo stadio quindi questo sicuramente ci darà molta motivazione indipendentemente dall'avversario.